Buone notizie, è nuovamente in calo il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Campania. Infatti, nelle scorse 24 ore, solo 3 positivi su 1.414 tamponi analizzati. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza in Campania è pari a 4.665. Altro dato incoraggiante è che anche ieri nessun decesso, il dato è fermo, a 431. Inoltre, si registrano 3 nuovi guariti, che porta il totale a 4.070. In Campania, gli attualmente positivi sono ancora 164. Altro sospiro di sollievo è la comunicazione che sono negativi i tamponi somministrati a 19 cittadini bulgari di etnia Rom, che erano scappati via dalla zona rossa di Mondragone nel Casertano e rintracciati nella Piana del Sele. È guarita anche l'operatrice sanitaria dell'ospedale Umberto I di Nocere Inferiore, originaria di mercato San Severino, dove rimane un solo caso positivo. Aggiornamenti incoraggianti quindi diramati dall'unità di crisi, che fanno ben sperare anche per i prossimi giorni con il coronavirus, che tende a calare nei contagi in tutta la Regione.